Questo è un barattolo di pomodori, l'ho pagato 35 centesimi, questo è lo scontrino, 35 centesimi. Si può dire che l'ho pagato veramente poco, che ho fatto un affare. L'affare però non l'ha fatto chi questo barattolo l'ha prodotto. Io non voglio entrare nel dibattito sulla regolarizzazione dei braccianti irregolari che lavorano in agricoltura, ma c'è da ricordare un aspetto molto importante che è quello del prezzo di vendita, che poi è quello che realmente va a incidere sul costo del lavoro. In pratica come funziona? Che la grande distribuzione, cioè quella dei supermercati e dei discount, per arrivare a un prezzo così basso ricorre al sistema delle aste al doppio ribasso. In pratica queste aste funzionano così, si fa una prima asta a cui partecipano i produttori, gli industriali. Gli industriali propongono un prezzo per il proprio prodotto, la grande distribuzione poi prende questo primo prezzo e fa una seconda asta. Nella seconda asta si arriva a un prezzo ancora più basso della precedente. Quindi in buona sostanza cosa succede? Che l'industriale e il produttore, pur di aggiudicarsi la commessa, pur di lavorare, pur di vendere, svende il proprio prodotto. Però con un problema, che questo poi si riflette sull'intera filiera che c'è alle spalle, quindi sul produttore agricolo e su poi chi lavora nei campi, che è l'ultimo anello della catena. Ho voluto spiegare brevemente, facendo degli esempi, come funziona e come è organizzato il mondo della grande distribuzione e di come si arriva al prezzo più basso, che può essere vantaggioso per il consumatore ma svantaggioso per il produttore. Ecco, in questo modo però con il prezzo basso si finisce per alimentare un sistema che spesso sfocia nello sfruttamento dei lavoratori e nell'illegalità diffusa. C'è anche un problema di caporalato internazionale che gestisce dei flussi migratori che si spostano di nazione in nazione per le diverse raccolte stagionali. Ecco, ho voluto fornire alcuni spunti per approfondire un dibattito molto interessante, però di cui spesso non si parla, che è proprio quello del prezzo del prodotto, che come ho detto è quello che incide sul costo del lavoro. Grazie per aver seguito questo video.